ti piace mucciante mitico ma perché il tuo collega che è un professionista non ce la fa capire che lui ci deve anticipare tu sei di castelluccio no sono di perugia no ma ci passeremo a castelluccio questo non lo so non lo so questo non te lo so dire ma io non sono di castelluccio sì però non so se si possa fermare secondo me no a campeggiare un po' no no hai vietato io sono andato settimana scorsa sono una marea di battuglie della foresta si si ci faccia questa pure dalle strade qua qua ciao 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 Grazie.